Napoli è una delle poche grandi città italiane che non avevano a gran fondo. Il ciclismo è molto in crescita in tutto il mondo e quindi Napoli merita una gara di questo genere. La gara attraversa più di 30 comuni, quindi sincronizzare tutti gli interventi non è facile. La cosa più importante di questo percorso è che è l'unico al mondo che attraversa 5 siti UNESCO che sono gli scavi di Arcolano, Ponti, Pompei, dopo c'è la reggia di Caserta e il centro storico di Napoli. 120 chilometri da percorrere tra venerdì e domenica con un prologo affascinante come la crono scalata alle falde del Vesuvio. È la gran fondo Napoli, gara ciclistica in calendario dal 5 al 7 giugno, durante la quale è previsto anche un circuito famiglia sul lungomare. E negli stessi giorni si correrà anche la quindicesima edizione della Caracciolo Gold Run, gara polistica di 10 chilometri che per la prima volta si correrà in notturna, riservata agli atleti che hanno un tempo inferiore a 50 minuti sulla distanza. È un evento di tre giorni dove sono previste una serie di iniziative diverse, infatti oltre alla giornata del venerdì ci sarà il sabato una giornata ricca di eventi sportivi vari, con attività di fitness, attività sportive diverse. La domenica invece c'è ancora una gara non competitiva di 3 chilometri, aperta a tutti con una partenza alle 9 e un quarto. Per la prima volta a Napoli faremo una gara in serata, sullo scenario solito, straordinario, insomma mettendo insieme i tanti turisti che affondano la città con una gara diciamo polistica. È una bella esperienza, tutta nuova, che vogliamo portare avanti. È un esperimento che sicuramente andrà a buon fine. Per quanto riguarda la Gran Fondo è una gara che attendevamo da tempo, abbiamo spinto molto perché si facesse questa gara, soprattutto dopo la prima tappa del Giro d'Italia di due anni fa, finalmente abbiamo una gara di livello internazionale in città che parte da Napoli, attraversa 5 siti unisco, insomma una cosa straordinaria, le perle della nostra provincia, arriva a Caserta e poi ritorna. Insomma, credo che ci sia il condimento per una grande giornata di sport.